Il primo di settembre avvieremo le nuove modalità di compartecipazione alla retta per tutti i servizi che riguardano i disabili, quindi non solo per quanto riguarda le rette relative ai disabili inseriti nelle strutture semiresidenziali e residenziali, ma anche per gli altri servizi erogati dal comune di Fano, soggetti in base al regolamento che è stato adottato nel febbraio di quest'anno, appunto un contributo delle famiglie per il servizio di assistenza domiciliare dei trasporti. Vogliamo utilizzare questo periodo per fare una valutazione molto attenta della situazione di ogni realtà familiare. Questo significa che però i familiari devono portare il ISEE, presentarlo, quindi fare il calcolo del proprio ISEE presso i CAF dove hanno fatto la prenotazione, perché solo a fronte di un quadro complessivo sia di chi può avere un ISEE massimo, sia di chi ha un ISEE invece calcolato rispetto al proprio reddito e quindi un ISEE anche basso, noi potremo avere un quadro preciso della situazione dei familiari, delle famiglie richiedenti servizi di vario genere nel nostro territorio.